Il Francesco Padre è una barca da pesca, l'hanno costruita dei maestri d'ascia nel 1967, una barca di legno, legno di quercia. Sapete, i missili sono fatti per addentrare degli scafi metallici, per addentrare questi scafi possenti, consistenti ed esplodere. Ma in questo caso il missile non esplode, attraversa questa barca da pesca alla streva di un paretto di burro, da parte a parte. La barca affonda perché non ha compartimenti stani, è pieno dell'Adriatico di notte, non ci sono testimoni oculari, sono tutte queste unità all'interno di un'operazione della NATO. A dare il primo segnale è un aereo americano, un aereo partito appunto dalla Sicilia e parte proprio da questo segnale, da questa segnalazione, da questo rapporto, il depistaggio, il solito e classico depistaggio, chiaramente. Alle 5 e mezza del mattino ufficialmente viene allertata la guardia costera di Molfetta, 5 ore dopo il fatto. Sapete, in mare in 5 ore si possono salvare delle vite umane, eventualmente. Siamo a novembre, pensate alla temperatura dell'acqua. E a questi poveri pescatori, no? Erano intenti a pescare, stavano pescando a strasciche. Giovanni Fanzini, il comandante, alle 22 e 15 circa, fa una telefonata, è l'ultima telefonata della sua vita, è l'ultimo contatto con la famiglia, vuole parlare con la moglie, Rosalia, tranquillizzala, dille che va tutto bene. Risponde sua figlia, sua figlia Maria. Maria ricorda al padre un importante appuntamento. Papà, domani devi andare, devi tornare a Bari, devi fare una biopsia, non stai bene. E il padre risponde, non ti preoccupare, non posso tornare domani, perché io ho la responsabilità non solo della mia, della nostra famiglia, ma anche gli altri 4 lavoratori che sono su questa barca, e questi ragazzi hanno dei figli, e qualcuno sta per nascere, per venire al mondo, non possiamo permetterci il lusso di non lavorare. E rimangono in mare, non tornano. Poi Giovanni parla con sua moglie Rosalia, la tranquillizza, la rassicura, stiamo pescando, tra qualche ora salpiamo le reti, stai tranquilla, ci sentiamo domani. Ecco, è l'ultimo contatto. La barca affonda repentinamente e trascina sul fondo, a 243 metri di profondità, 4 di questi 5 uomini e il cane. Ufficialmente la prima unità navale a giungere sul luogo della tragedia è la fregata Baleare, la fregata spagnola, la fregata Baleares. Questa nave militare spagnola non ha mai recuperato né un rottame della barca e neppure avvistato l'unico uomo che poi verrà recuperato effettivamente, meglio la salma di un uomo, del più giovane pescatore del Francesco padre, Mario De Nicolo, aveva 28 anni. Il corpo di Mario verrà avvistato da altri pescatori nel pomeriggio del 4 novembre 1994, senza vita ormai, era da troppe ore in mare. E su questo ritrovamento in mare c'è un giago, c'è un mistero. Quando viene avvistato Mario De Nicolo ha i vestiti, ha gli indumenti addosso, è inequivocabile, ci sono testimoni oculari. Arrivano le barche da pesca della marineria pugliese, molpettese in particolare, e cercano disperatamente di trovare dei sovravvissuti, qualcosa della barca, del Francesco padre, trovano rottami e trovano anche un corpo senza vita. Lo segnalano ovviamente alle decine di unità aereo navali presenti in quella zona che non avevano trovato e cercato nulla e non erano neanche prestati a soccorso, erano in quello scenario. Ma non avevano prestato soccorso. Il corpo di Mario De Nicolo viene portato su una motovedetta e sbarcato in serata a Molfetta. Quando arriva a Molfetta il cadavere di Mario De Nicolo non ha più gli indumenti, ha soltanto un calzino. Arriva al tavolo dell'auditorio, il giorno seguente viene fatta l'autopsia. Arrivano tre luminari, fanno un'autopsia e questa relazione atoptica ovviamente finisce sul tavolo del magistrato, del PM di turno, Elisabetta Pugliese, il primo magistrato che si occupa di questo caso, di questa vicenda. E già quella relazione atoptica avrebbe dovuto aprire gli occhi a questo magistrato che a mio avviso meriterebbe un prevedimento del Consiglio Superiore della Magistratura, quantomeno, anche a distanza di anni, a distanza di tempo. Però ha fatto carriera, come tanti altri soggetti, come tanti altri attori che in questa storia hanno guadagnato molto in termini di carriera e di prestigio professionale, purtroppo. È strano, eh? È strano perché era scritto già allora, il 5 novembre del 94, in questa relazione atoptica, c'era scritto tutto. Cioè, veniva raccontata, chiaramente in termini scientifici, rigorosamente scientifici, la morte di questo uomo, di questo pescatore, questo onesto lavoratore del mare. Gli esperti trovano, innanzitutto si insospettiscono perché trovano un cadavere privo di indumenti, se non per un pensiero. Trovano addosso al corpo di quest'uomo tracce di un carburi. E soprattutto dicono una cosa, che quest'uomo era in una posizione di... aveva cercato riparo, è scritto a chiare lettere, in termini rigorosamente scientifici. Eppure il magistrato non prende in considerazione questo rilievo. Io, nell'ultima parte di questo libro, ho inserito le interviste fatte ad alcuni familiari di queste vittime, volutamente, perché sono le persone che ho incontrato alla fine dell'inchiesta. Non volevo che mi influenzassero. E c'è una testimonianza in modo particolarmente illuminante, la moglie di Mario De Nicolo, lei racconta proprio questo episodio del riconoscimento del marito all'obitorio. E lei mi ha fatto notare una cosa, a cui nessuno ha dato peso. Lei dice, quando ho visto mio marito, mi avevano detto che era riconoscibile, che era sfigurato, invece no. Ma io ho notato non solo che era nudo, ma che non aveva la fede. Mio marito non aveva la fede. Lei si chiede, ma come si fa a perdere la fede in mare? Perché un corpo si sa, si gonfia. Gli hanno tolto anche la fede. Chissà perché. Gli indumenti, la fede. Forse c'erano tracce a bordo di quegli indumenti. Lui si rimane un giallo. La procura cosa fa? Chiaramente il magistrato chiama un esperto. Nei depistaggi, c'è sempre l'esperto di turno, no? Chi deve convalidare il depistaggio, la manomissione delle prove, degli indizi. E anche in questa storia entra subito in scena l'esperto. L'esperto, in questo caso, è un docente universitario. Un docente naviglio minore, cattedra all'Università Federico II di Napoli, docente a Calaccheremia Navale di Livorno e consulente della Nato. Ma non lo sapevano i magistrati, non lo sapeva nessuno. L'ha scoperto un giornalista, per caso, scrivendo un libro, indagando sul passato di questo esperto. E l'esperto cosa fa? Chiaramente fa l'esperto della situazione. Analizza i reperti, le evidenze, e scrive una prima perizia, che è datata al 1995. In questa prima perizia l'esperto, Giulio Russo Krauss, chiamiamolo col nome e cognome, di Napoli. Napolitano, anche se il cognome nasconde le origini, scusate. In questa prima perizia l'esperto asserisce che la barca è affondata, innanzitutto esplosa, si è disintegrata a causa di un'esplosione interna, quindi non rimane nulla della barca. Che la barca trasportava esplosivi, questi esplosivi erano collocati a prua dell'imbarcazione. Quindi, barca esplode, trasporta esplosivi, questo è lo scenario descritto nella prima perizia del 1995 dall'esperto. Disarmante, no? E a quel punto, voglio dire, le indagini potrebbero essere anche chiuse, archiviate, sepolte definitivamente, no? C'è già una verità tecnica, scientifica, se vogliamo, tra virgolette, e invece succede qualcosa di strano. I legali, i familiari delle vittime riescono a ottenere dal PM pugliese un provvedimento. Cioè, affidano a una società, là in presubo, un compito, quello di mandare giù a 243 metri di profondità un robot, che è un robot teleguidato con una telecamera, per filmare, chiaramente, quello che è rimasto della barca. Il Rob scende a 243 metri il 4 giugno del 1996. Le prime immagini risalgono a 4 giugno del 1996. Strano, perché le immagini sono inequivocabili. La barca è integra, non è esplorata. Grazie.